Ma prima siamo collegati da Imola con il professor Romano Prodi. Buonasera professor Prodi, grazie per aver accettato il nostro invito e siamo curiosi. Alcuno è venuto da me a farmi vedere il telefonino che aveva votato a favore. Tra quelli che erano sospettati di aver votato a favore. Sono immorali, guardi. No, io penso di no perché il potere del governo è molto forte, però le dico sinceramente che sto aspettando questa settimana per vedere le decisioni specifiche che il governo cinese prende. Perché le deve prendere.